Le risorse sono insufficienti rispetto al fabbisogno, a dirlo è l'IRPET nell'ultimo rapporto sul disagio abitativo dello scorso marzo. A livello regionale ci sono circa 124 famiglie che cercano un'abitazione di queste, il 43%, circa 53.000, vive in povertà assoluta. In particolare ad Arezzo ci sono oltre 4.540 famiglie con un ISEE sotto i 16.000 euro. Tra queste ben 2077 vertono in quella che viene definita la povertà assoluta. Un problema quello dell'emergenza abitativa portato sui tavoli istituzionali da tempo da parte del SUNIA, ma a detta del sindacato per ora è rimasta lettera morta. Non c'è un solo comune che abbia risposto. C'è la commissione dell'emergenza abitativa, ma non so quanto riesce a fare forza. Riusciamo a fare forza perché ora siamo sotto elezioni, quindi ci sono tutta una serie di problematiche. Io sono stata una di quelle che è andata a depositare personalmente, insieme alle altre colleghi, a depositare 45.000 firme proprio per richiedere degli aiuti riservati alla casa. Stiamo cercando anche di sensibilizzare un po' tutti gli enti per vedere se facciamo della solidarietà e quindi ci occupiamo di questo problema, non solo come sindacato, ma anche quelli del terzo settore, per vedere se tutti quanti insieme riusciamo a far fronte a questo problema. Anche nel nostro territorio stiamo andando verso gli alloggi per il turismo, quindi se gli proprietari mettono a disposizione i propri alloggi, non in modo stabile per le famiglie, ma riservati al mondo turistico, chiaramente ci sarà sempre più sete di case. Inoltre c'è anche da dire che gli affitti sono molto alti, facendo conto che soprattutto le giovani coppie hanno dei lavori saltuari, quindi non una stabilità, anche questo rafforza questo senso di disagio, si sta tornando alla coabitazione soprattutto tra gli stranieri con i disagi che ne conseguono. Quindi è un problema che va ripreso in mano perché bisogna farsene carico, non è un problema che se ne parla così tanto per parlare.